Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, bentornata Antonella Viola, immunologa dell'Università di Padova, buonasera Alessandro Sallusti, direttore del giornale, buonasera Beppe Severnini, editorialista del Corriere della Sera e buonasera Antonio Padellano, editorialista del Fatto Quotidiano. Allora, mentre i contagi continuano ad aumentare, oggi siamo arrivati a quota 20.000, sale la tensione nella maggioranza del governo Draghi e sale anche la tensione nel Consiglio Europeo dove Draghi è in allarme per i vaccini, subito dopo la pubblicità. Beppe Severnini, Salvini oggi torna ad attaccare. Dicendo che è irrispettoso parlare di Pasqua blindata e Zingaretti replica che così si porta il paese fuoristrada. Tra le regioni c'è chi chiede di chiudere le scuole ma di aprire i ristoranti la sera. Si ha un po' l'impressione che regni una gran confusione sotto il cielo, no? Sì, oltretutto il cielo è pure bello e ci fa venire in mente la primavera mancata del 2020 e tutti abbiamo veramente il timore che accada di nuovo. Quindi Salmini sbaglia almeno due volte. Sbaglia perché non puoi fare l'opposizione al governo di cui fai parte. Questo sono sicuro che gli è stato spiegato. Quando l'altro giorno è andato a Palazzo Chigi da Draghi, io non c'ero, non c'era nessuno di noi, erano loro due, ma sono sicuro che gentilmente questo gli avrà detto. Se fai parte di un governo devi smettere di fare l'opposizione perché se tutti fanno così è un casino generalizzato, quindi un passo oltre alla confusione. Oltretutto se siamo arrivati qui, se ha dovuto arrivare un personaggio come Mario Draghi e cara grazia che c'è, perché adesso in Europa avere Draghi che parla con la Merkel e Macron è certamente un piccolo vantaggio per noi, è perché la politica non ha fatto il suo mestiere fino in fondo, la politica tutta. Questo se lo sono già dimenticato? Infine, quando Salvini continua a dire, ho sentito oggi, la Pasqua chiusa è il rispettoso verso gli italiani. Prima di tutto gli italiani, sono italiano anch'io, non vedo bene chi l'ha autorizzato a parlare per me e poi il rispettoso, mi vengono in mente altri aggettivi in oso, pauroso, fastidioso, doloroso, certo che sarebbe così, però il rispettoso è un il rispettoso, perché il rispettoso? Guardate che le cose purtroppo non vanno bene, un amico medico è venuto anche a otto e mezzo, mi ha scritto oggi pomeriggio da Bologna, i malati li mandano già a Piacenza, perché da Cesena a Parma è sold out, per spiegare qual è la situazione. Sì, tra l'altro Bologna da domani entrerà sicuramente in zona arancione scuro, quindi insomma, Alessandro Sallusti, abbiamo visto che il controcanto, chiamiamolo così, di Salvini è quotidiano, ma sta aiutando il governo Draghi così? Non credo che ci abbia sentito perché non vedo alcuna reazione, allora lo chiedo a te Antonio Padellaro e aggiungo anche che osservare la politica di questi giorni non sembra, allora aspetta Antonio, Sallusti con questo controcanto quotidiano Salvini, sta aiutando il governo Draghi? Certo se non lo facesse sarebbe meglio per tutti, però ogni partito, ogni comunità ha i suoi riti, le sue parole d'ordine, io credo che bisognerà prestare molta attenzione a cosa la Lega farà in Parlamento, a cosa farà in Consiglio dei Ministri e su quello giudicare. Poi quel partito è un partito, come dire, di popolo, di massa, ha delle parole d'ordine, ha degli slogan che devono comunque, non possono scomparire dall'oggi al domani. Vediamo cosa farà la Lega, poi giudichiamo. Ha ragione Sallusti, Antonio Padellaro e voglio solo ricordare che secondo molti analisti e non solo, avere dentro tutti nella maggioranza di governo dovrebbe essere una garanzia di maggiore stabilità, ma in realtà non sembra così. No, ha ragione Sallusti a dire che Salvini fa la politica di Salvini, cioè degli interessi della Lega, ma il problema è un altro. Il problema è che questa maggioranza allargata, che poteva essere un'opportunità positiva, si sta rivelando per Draghi e per il Paese una trappola e paradossalmente noi dobbiamo ringraziare Giorgia Meloni che è rimasta all'opposizione, perché voi potete immaginare cosa sarebbe stato questo meraviglioso marchigegno con Giorgia Meloni che avrebbe fatto gli interessi legittimamente di Fratelli d'Italia. Ora, questa idea che mettendo tutti insieme appassionatamente dentro un governo si risolvono nei problemi. È un'idea o ipocrita o stupida. A questo punto io spero che Severnini abbia ragione quando immagina che Draghi abbia detto a Salvini, datti una calmata. Io credo che però occorra qualcosa di più, perché in questo momento non sono soltanto in ballo le sorti personali, di personaggi anche importanti come Draghi, ma sono in ballo le sorti del Paese. Non si può andare avanti dopo un anno di pandemia e con tutto quello che è successo. Non parliamo delle sofferenze dei morti. Continuare un anno dopo quel discorso apriamo, chiudiamo, 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 apriamo. Ma è una cosa intollerabile. Io penso che veramente ci sia un limite anche alla decenza. Ed è stato superato. Vedo che Salusti non è d'accordo perché Beppe Severnini poi interpelliamo l'esperta che magari ci darà qualche... Prego. Antonio, io credo che gli interessi degli elettori di Fratelli d'Italia, così come chiunque, siano che qualcuno ci porti a casa i vaccini sufficienti il prima possibile. Questo è l'interesse principale degli elettori di qualsiasi partito. Quindi se Draghi ci riuscirà, il vecchio governo è caduto anche, non solo, ma anche perché non riusciva a fare un'operazione vaccinale degna di questo nome. Draghi si gioca tutto lì. Poi se apriamo Pasqua, il 24, il 26, il 27, il 28, va benissimo, discutiamo, ci si arrabbia, non ci si arrabbia. Ma questi devono portarci a casa i vaccini. E io immagino e credo che un governo Draghi abbia più possibilità di portarci a casa i vaccini. Sì, ma nel frattempo, scusami Alessandro, è un problema cruciale. Nel frattempo che con tutte le cose che non sono andate bene, prima che i vaccini arrivino, bisogna stabilire una linea del piave per contrastare la pandemia. Perché nell'attesa dei vaccini, i numeri che vediamo anche oggi e che purtroppo sembrano destinati a salire, ci creeranno una situazione ancora peggiore. Quindi occorre innanzitutto che il governo dia una indicazione precisa. Non è possibile fare compromesse e mediazioni sul numero dei malati, dei contagiati o addirittura delle vittime. È assurdo questo. Aspetta, Beppe Severnini, ti reinterpello su questo, ma voglio prima sentire la professoressa Viola. Ci vorrebbe un governo che desse delle indicazioni precise e diciamo che in questo momento abbiamo pochi vaccini e molte varianti. Tant'è che il Presidente del Consiglio Draghi, oggi al Consiglio europeo, ha un po' battuto i pugni sul tavolo, anche se questa è un po' la nostra traduzione, dicendo che bisogna essere più severi con le aziende farmaceutiche che non rispettano i contratti. che bisogna accelerare questo piano vaccinale, che bisogna anche pensare di fare contratti con altri. Insomma, ha detto, magari poi ci entriamo ancora nel dettaglio, è anche proposto di dare la priorità alle prime dosi, alla luce, ha detto, della recente letteratura scientifica. Allora le chiedo due cose. Uno, avrebbe senso in questa situazione nella quale ci troviamo adesso di riaprire o sarebbe solo pericoloso e avrebbe senso invece di dare priorità alla prima dose dei vaccini in modo da poter immunizzare più persone, ovviamente, no? Allora, la prima risposta è molto semplice, no? In questo momento non si può riaprire perché ci sono le varianti che sono in circolazione, perché ci sono i contagi che stanno aumentando in alcune zone critiche, perché non abbiamo ancora il controllo della pandemia, perché i vaccini sono in ritardo e non abbiamo ancora messo in sicurezza le persone fragili. Per tutti questi motivi in questo momento parlare di riapertura è impossibile. E devo dire che sono d'accordo che è fastidioso continuare a sentire questa richiesta, perché bisogna ormai più o meno, abbiamo capito come funzionano le regole, come bisogna controllare il territorio e come gestire le aperture e le chiusure sulla base dell'andamento epidemiologico, l'andamento del contagio. Quindi è inutile alzare i toni e chiedere aperture quando questo non è possibile proprio da un punto di vista sanitario. Per quanto riguarda invece la seconda risposta, questa è molto più complessa, cioè se ha senso usare una singola dose per vaccinare più persone invece che portare a termine il protocollo vaccinale. Non ci sono dati a sostegno di questa ipotesi, mi dispiace dirlo, ci sono dati molto preliminari e basati su piccoli numeri e ci sono anche dati contrastanti. In Israele ci sono lavori che dicono che una dose non protegge e lavori che dicono che una dose protegge. Vengono dal Regno Unito questi studi scientifici, non si fida tanto lei quindi? Ci sono sia in Israele sia dal Regno Unito che sono i due paesi che sono più avanti con questa vaccinazione. Per esempio gli Stati Uniti hanno deciso di andare con le due dosi e di portare avanti il protocollo nel modo corretto come il trial clinico è stato disegnato. Il rischio qual è? Il rischio è che noi giochiamo una scommessa, nel senso che sul breve termine potrebbe funzionare perché do una copertura parziale a molte persone, ma sul lungo termine potrebbe essere un doppio boomerang. Uno perché non sappiamo quanto duri l'efficacia della protezione nel tempo e quindi potremmo avere una ridotta efficacia con questo sistema e due perché una protezione minore, cioè un titolo anticorpale basso in tante persone mentre la circolazione del virus è alta potrebbe favorire la comparsa di varianti perché il fatto che il virus possa comunque infettare anche se non causa la malattia grave e possa replicarsi e mutare questo è assolutamente rischioso. Quindi nelle condizioni in cui siamo adesso con un'ampia circolazione del virus non mi sembra un'idea felice e i dati che abbiamo a disposizione non sono sufficienti per dire sì questa è la strategia giusta. Un trial clinico non si può cambiare e stravolgere così sulla base dell'intuizione. Noi dobbiamo ricordarci che dobbiamo basarci su una medicina basata sulle evidenze e non sulle esperienze e sulle intuizioni. Beppe Severnini, in tutto questo Draghi dovrebbe parlare di più e dicevo prima che è impegnato al Consiglio europeo, il suo primo Consiglio europeo da Presidente del Consiglio proprio sulla questione dei vaccini, la carenza di dosi, la campagna vaccinale che non riesce veramente a decollare. Ora ha chiesto una serie di cose ma alla fine che cosa è possibile fare veramente e concretamente? Io credo che Mario Draghi parlerà, ne sono convinto presto e mi auguro che ci aiuti, ci indichi la direzione. L'ho scritto l'altro giorno sul Corriere, capiamo le difficoltà ci sono, ogni sera tu con i tuoi ospiti le riassumi, ormai abbiamo capito quanto è difficile fare previsioni, però guarda in Gran Bretagna, è vero hanno vaccinato un po' di più, però questa sorta di cronoprogramma che ha fatto Boris Johnson, uno che sul Covid ha fatto di tutto e contrario di tutto, però ha detto succede così in abarzo, così in aprile, così in maggio, se va tutto come il 21 giugno forse torniamo alla normalità, le cose possono cambiare ma questo senso di direzione è importante, noi siamo tutti chiusi da un anno. Scusa Boris Johnson, c'hai le dosi di vaccino, cosa che noi non abbiamo nel resto dell'Europa. Allora il Presidente del Consiglio Draghi aggiungerà anche queste e indicherà una direzione più lenta o diversa, indicando anche le incertezze, però occorre indicare una direzione, i vaccini arriveranno, forse anche fin troppi fra qualche mese, però qualcosa assolutamente bisogna indicare perché la gente, io sento un misto di irritazione che porta alla rimozione, anche prima che Salvini e Incompany si mettano di mezzo e questo mi preoccupa molto, la rimozione di quello che sta accadendo e quindi a un governo, ripeto, stavo dicendo, siamo chiusi nella nostra stanzetta mentale, almeno vedere il segnale con scritto uscita luminoso da qualche parte, provare ad aiutarci. Sono sicuro che lo capisce anche lui, non possiamo andare avanti a dire, forse le incertezze le conosciamo. Sei d'accordo Alessandro Sallusti? Ci vorrebbe un po' più di sovranismo vaccinale, chiamiamolo così, sarebbe meglio che ogni paese europeo facesse un po' per sé nell'approvvigionamento delle dosi di vaccino? No, sarebbe meglio che ogni paese in difficoltà potesse essere libero di provare a farlo, cioè non per scavalcare l'Europa, ma perché se l'Europa ha sbagliato, se qualcuno sta prendendo in giro l'Europa, così come ha fatto la Germania, hanno fatto altri paesi. Dopodiché si entra in una questione di geopolitica, perché i vaccini sono un po' come le nuove armi, una volta i rapporti di forza tra i paesi erano le bombe, oggi sono i vaccini. Mi chiedo perché si tarda così tanto a prendere in considerazione lo Sputnik e il vaccino russo, che pure sarebbe a disposizione, probabilmente non è una questione medica o clinica o scientifica, è una questione politica, è così quello cinese che sta invadendo l'Africa e che aumenterà il peso della Cina in Africa. Chiediamolo alla professoressa Viola subito, perché non utilizziamo il vaccino russo Sputnik o quello cinese, professoressa? Perché devono consegnare i documenti e la richiesta di autorizzazione all'EMA, se non avviene questo passaggio, l'EMA come può approvarli? Quindi deve esserci un passo da parte della Russia o della Cina, consegnare i documenti e l'EMA deve valutarli, questo da quello che mi risulta non è mai successo e quindi come facciamo a usare un vaccino che non è approvato, che non è valutato? Cioè nessuno mette in dubbio l'efficacia di questi vaccini, nessuno, anzi, ma perché tra l'altro i dati pubblicati dello Sputnik con diversi problemi, con diversi errori, però tutto sommato sembra che funzionino, il vaccino cinese sembra che funzioni, però non hanno mai sottoposto i loro protocolli e i risultati clinici all'EMA. Eh sì, però senza questo passaggio non ci può essere la valutazione, l'approvazione. Antonio Pagliano. Il resto, scusate se mi inserisco, è difficile che la Russia metta a disposizione un'arma così potente come il vaccino a una comunità, quella europea, che mantiene delle sanzioni giudicate da molte, come dire, eccessive industrie nei suoi confronti, cioè veramente col vaccino entreremo in un campo di geopolitica molto interessante e anche molto pericoloso per certi versi. Sì, io vorrei capire, e forse la professoressa Viola può aiutarci, se è vero che lo Sputnik, cioè non è avvenuta una vaccinazione in Russia attraverso lo Sputnik, c'è stata una vaccinazione di massa in Russia con lo Sputnik? Da quello che si sa no, mentre col vaccino cinese c'è stata un'ampia vaccinazione con quello Scusate, ma scusate, ma va bene la geopolitica, ma il fatto che Putin non abbia utilizzato lo Sputnik per vaccinare la sua popolazione non fa avvenire qualche interrogativo? Poi vorrei dire, a proposito del sovranismo vaccinale, che è anche meravigliosa questa, poco fa il presidente dell'azienda di Pomezia che collabora con Oxford per il vaccino AstraZeneca ha detto che la produzione certamente autonoma in Italia dei vaccini è possibile, ma le varie fasi comportano 7-8 mesi di attesa, prima che si metta a punto tutto il sistema produttivo, quindi non diamo illusioni che col sovranismo vaccinale padano, non lo so che quali idee ci siano, abbiamo risolto i problemi, non è così. Non è così Beppe Severnini, quindi forse bisogna anche non farlo credere. D'accordo, ma allora il presidente del Consiglio va e dice questa è la situazione, questi sono i problemi, una volta lo farà sicuramente. Quello che io intendo dire è non possiamo affidare, gli italiani hanno bisogno, dopo aver fatto questa scelta, di sentire chi comanda che indica una strada. E dice questa strada è complicata, ci sono le curve, ma la strada è questa qui e da qualche tempo. Mi permetto, lo stavo per fare prima Antonio, tu hai usato la parola mettersi tutti insieme in un governo è una scelta stupida, forse ti è sfuggito l'aggettivo, è stata una scelta necessaria, complicatissima, ma necessaria. Se vuoi uso un altro aggettivo, dico forse che non è stata efficace, va bene, mi correggo, non è stata efficace, ma tu davvero pensi che mettendo tutti insieme si risolvono i problemi? Lo stiamo vedendo proprio in questo momento. La politica è una scienza esatta e non è che la somma di 1 più 1 più 1 più 1 poi fa il risultato ideale, non è detto, perché ogni forza politica porta qualcosa giustamente in quella maggioranza. Severlini? Però i governi di salvezza nazionale si chiamano così perché c'è una nazione che ha bisogno di salvezza, è evidente che questa non è una ricetta da replicare, però se siamo finiti qui è perché le altre strade non hanno funzionato. E se tutti usassero un po' di buonsenso, quello che mi sembra che noi tutti anche la pensiamo diversamente quando parliamo qui cerchiamo di usare, se al governo usassero lo stesso buonsenso di non contraddirsi, litigare costantemente, però è presto, allora prima di fasciarci la testa aspettiamo di romperci, anzi auguriamo di non romperci, sono lì da pochi giorni. La differenza tra te e me in questo caso è che tu fai un giusto auspicio che si mettano d'accordo, io penso che sia abbastanza difficile e inevitabile oggettivamente, però vorrei chiederti una cosa, ma ovviamente non lo so, quali sono i governi di salvezza nazionale che hanno funzionato, per esempio, nella lotta alla pandemia? Scusa, sono ignorante, tu hai esperienze internazionali e lo saprai. Beh, la pandemia è una novità, però anche in Italia abbiamo avuto dei governi in cui non erano salvezza nazionale, in cui forze politiche si mettevano insieme e smettevano di litigare per un po', è successo anche dopo la guerra, è successo col compromesso storico che non si chiamava salvezza nazionale, ma c'era una forza del Partito Comunista che in anni complicatissimi ha deciso di comportarsi in un certo modo, è successo con Ciampi, lì era una questione economica e non sanitaria, però è successo per andare fuori in Germania, nessuno è uguale all'altro, ma ci sono casi drammatici in cui in un paese le persone, le forze politiche, scusa, decidono, basta litigare, si lavora insieme e adesso devono farlo, devono farlo. Siamo in Italia, va bene, ma io se non dobbiamo fare una conferenza sul passato, perché ci sarebbero molte cose da dire, per esempio sul famoso governo di unità nazionale dopo guerra, perché cominceranno a litigare, basta sfogliare i libri di storia, un minuto dopo dei gas per i rettogliati. Ora però non vogliamo andare così tanto indietro nel tempo, Sallusti. Per carità. No, io però dico, va bene, mi sembra chiaro, insomma Padellaro rimpiange il Conte 2. No, io non rimpiango nulla, io parlo del paese in che condizioni siamo, non rimpiango nulla. Non è un'offesa, però dico una cosa, c'è una novità, ieri sera era prevista la nomina dei 30 e passa sottosegretari e i partiti verso le 7 di sera hanno detto a Draghi, guarda non abbiamo trovato l'accordo, ci vediamo domani. Draghi gli ha detto, signori o siete qui e entro alle 21 mi date la lista oppure alle 21 decido io, esco in sala stampa e comunico la lista e quelli sono forse a portare la lista perché hanno capito che non scherzava. Allora, questo è un piccolo segno di novità che riguarda i sottosegretari e chi se ne frega i sottosegretari, ma che potrebbe essere, io mi auguro, un modello di gioco. Litigate, fate, disfate, però entro le 20 di stasera si fa questa roba, se no la faccio io. Potrebbe essersi questa la linea anche in futuro, però resta il problema e qui le devo chiedere professoressa Viola, se diciamo per il bene della chiarezza, della trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica, il Presidente del Consiglio Draghi dovrebbe parlare di più, dovrebbe dare indicazioni più chiare, più frequenti, dovrebbe rivolgersi all'opinione pubblica? Allora, certamente in un momento così difficile, riuscire a comunicare, a spiegare qual è la direzione, a rassicurare in qualche modo, anche proprio con la presenza, con il contatto diretto aiuterebbe senz'altro. Poi però, se alla fine però parla poco e fa tanto, penso che siamo tutti comunque contenti. Alla fine noi ci aspettiamo i risultati, dobbiamo riuscire ad arrivare a comportare a termine questa campagna di vaccinazione, arrivare all'estate con una buona percentuale di italiani vaccinati. Certo, sarebbe più bello se ci fosse una presenza che accompagna, perché mi rendo conto che in questo momento tanti italiani sono in difficoltà e hanno bisogno di sentire, di sentirsi confortati. Però abbiamo decisamente più bisogno di risultati che di parole in questo momento. Ecco, a questo proposito, professore Saviola, vabbè ricordo che naturalmente Conte era stato rimproverato proprio per parlare troppo, per rivolgersi troppo all'opinione pubblica, a reti unificate, eccetera, eccetera. Ma oggi il Presidente del Parlamento Europeo, Sassoli, ha ribadito che l'obiettivo resta quello di vaccinare il 70% della popolazione europea entro la fine dell'estate. È realistico? No, io non lo credo. Guardando i numeri che abbiamo adesso non è possibile. È vero che adesso arriveranno altri vaccini, è vero che la gran parte delle dosi arriverà nella seconda parte dell'anno. Però mettere in piedi, così all'improvviso, una campagna per la vaccinazione del 70% degli italiani, che poi alla fine vorrebbe dire vaccinare tutti, perché se consideriamo che sotto i 16 anni non si può vaccinare e ci sarà comunque una quota di Novax o di persone che sono scettiche, che non vorranno essere vaccinate, il 70% vorrebbe dire coprire di fatto tutta la popolazione. E' abbastanza irrealistico, ma oltretutto a livello europeo. Probabilmente entro la fine dell'anno. Entro la fine dell'anno, speriamo. Allora, intanto, pur nella pandemia, un pezzo d'Italia ha continuato a pensare al cosiddetto bene comune, come ci ricorda Paolo Pagliaro nel suo punto. Guardate. Nonostante restrizioni, quarantene e divieti, anche nel primo anno di epidemia circa 800.000 italiani hanno dedicato tempo libero e risorse alla cura dei beni comuni. Si sono occupati di parchi, scuole, piazze, monumenti, teatri, sentieri, spiagge, boschi, aree abbandonate e tanti altri luoghi pubblici, ma hanno protetto anche beni immateriali, come i diritti civili, la legalità, la memoria collettiva. Nelle lunghe settimane chiusi in casa, milioni di italiani hanno poi dimostrato di sapersi assumere la responsabilità della cura di un altro bene comune, fondamentale come la salute. Da anni, Gregorio Arena, professore di diritto amministrativo, lavora al consolidamento di una rete che consenta lo scambio di esperienze, informazioni e competenze tra i vari gruppi. Lo strumento si chiama Lapsus, Laboratorio per la Sussidiarietà. Il risultato sono i mille patti di collaborazione tra comuni e cittadini e il manifesto programmatico sta in un libro edito pochi giorni fa dal Touring Club con il titolo I custodi della bellezza. Scrive il professore Arena che se ci venisse proposto da qualcuno dotato di autorevolezza e credibilità saremmo probabilmente disposti a moltiplicare i nostri sforzi per rendere l'Italia un paese migliore. L'idea è di dar vita a un patto per la ripresa tra cittadini e istituzioni fondato sulla cura dei beni comuni, un esperimento di democrazia diffusa e uno sforzo collettivo per rimediare a decenni di abbandono. 800.000 italiani sono già mobilitati, molti altri potrebbero affiancarli. Ecco speriamo. Siamo in chiusura. Grazie professoressa Viola, grazie Beppe Severnini, grazie Alessandro Sallusti, grazie Antonio Padellaro, grazie spettatrici e spettatori. Adesso vi lascio come sempre il giovedì sera a Corrado Formiglia e a sua piazza pulita, quindi restate con noi e noi come sempre ci vediamo domani 8 e mezzo. Arrivederci.